Un corso pratico di felicità? Sì, questo è un corso pratico di felicità, un corso con il quale puoi imparare ad essere felice tutti i giorni, indipendentemente da quello che ti accade. Ce lo diceva già Aristotele più di duemila anni fa e oggi le neuroscienze, la psicologia positiva, tutte le scienze più moderne che studiano i comportamenti dell'essere umano confermano che per imparare ad essere felici bastano un po' di studio e un po' di applicazione. Aristotele ci ha detto che la felicità è il bene sommo per l'essere umano, quello che abbiamo imparato noi invece, perché ci è stato insegnato così, è che la felicità è un attimo fuggente, è un'emozione passeggera, è una meta irraggiungibile, magari può essere il frutto di un colpo di fortuna. E così nella speranza di essere felici rincorriamo il divertimento, rincorriamo un attimo di serenità, rincorriamo un po' di relax, magari acquistiamo ogni giorno qualche cosa di nuovo sperando che possa darci la felicità, ma difficilmente raggiungeremo la felicità in questo modo. E così facciamo come il criceto che corre, corre all'interno della ruota senza mai muoversi da dov'è. La felicità, quella vera, è tutta un'altra cosa. Felicità ha origine dalla parola felix latino, che significa fertile, produttivo, fruttifero. E con questo corso imparerai a trasformare tutto quello che ti accade in qualche cosa che per te sarà fertile, produttivo, fruttifero. E questo significa imparare ad essere felici. Ma siccome questo qua è un vero e proprio corso pratico di felicità, cominciamo subito con qualche cosa di pratico leggendo questo cartello. Io sono nato intelligente e felice. E naturalmente c'è anche la versione femminile. Io sono nata intelligente e felice. A che cosa serve questo cartello? Te lo devi stampare, lo trovi nelle risorse del corso e stampalo in più copie che puoi. Appenditelo in camera, in ufficio, dove lavori e mettitelo anche sullo smartphone. E ogni volta che ne senti il bisogno te lo guardi, perché ti ricorderà da dove arrivi e quali sono le tue potenzialità. Nelle risorse del corso, inoltre, troverai anche tutta una serie di esercizi con i quali insegnerai alla tua mente ad essere felice. È un vero e proprio programma da seguire per far rifiorire la tua felicità. Che tu sia un ingegnere, un avvocato, un'operaia, una parrucchiera, un'insegnante, non ha importanza che cosa sei e che cosa hai studiato nella tua vita. Certamente hai studiato ben poco sulla felicità perché non è un argomento del quale siamo soliti occuparci. E non è che ci siano cose facili o cose difficili, ma ci sono cose che si sanno fare e cose che non si sanno fare. In questo corso imparerai tutto quello che puoi e che devi fare se vuoi imparare ad essere felice. E tutto quello che troverai all'interno di questo corso si basa proprio sulle scienze che hanno studiato la felicità. Le neuroscienze, la psicologia positiva, la psiconeuroendocrino immunologia e anche l'epigenetica. La scienza che ha studiato e che ci spiega come attraverso i comportamenti, quindi come attraverso i tuoi comportamenti, puoi utilizzare al meglio il tuo patrimonio genetico e anche questo ti aiuterà ad essere sempre più felice. Come diceva Seneca non c'è vento favorevole per chi non sappia dove andare. E questo è quello che capita a tutti quanti noi riguardo alla felicità. Quello che facciamo tutti i giorni, i nostri comportamenti, funzionano senza sapere come siamo fatti, senza sapere come prendiamo le nostre decisioni, senza sapere come decidiamo di prendere le nostre decisioni. E questo in realtà molto spesso ci crea una grande confusione. Durante il corso imparerai come sei fatto, che cosa ti ostacola e come puoi superare gli ostacoli. Imparerai che cosa sono le emozioni e come le puoi usare per trovare delle energie dentro di te per stare ogni giorno meglio. Imparerai come usare il tuo corpo per far star bene la tua mente. In questo modo creerai una sinergia tra corpo e mente che sarà la base sulla quale costruire la tua felicità. Con questo corso imparerai una potente tecnica che ti permetterà di affrontare le situazioni di ansia e di stress anche quando si presentano. E praticando questa tecnica con una certa costanza accadrà che sempre di più le situazioni di ansia e di stress si allontaneranno da te. Fino a quando ansia e stress diventeranno veramente un ricordo? Te lo posso dire perché ho visto già decine di persone che con questa esperienza hanno dimenticato che cosa siano ansia e stress. Perché è importante questa cosa? Perché ansia e stress sono i più grandi nemici della possibilità di essere felici e lo capiremo bene più avanti durante il corso. Infine una volta che avrai imparato a liberarti dall'ansia e dallo stress avrai capito che cosa sono le emozioni e come usarle per stare ogni giorno meglio imparerai le quattro regole della felicità, le quattro leggi della felicità con le quali in ogni momento avrai chiaro se la tua scelta sta alimentando la tua felicità oppure la sta ostacolando. Con queste quattro leggi della felicità potrai coltivare giorno dopo giorno la felicità dentro di te perché come diceva Aristotele per essere felici bastano un po' di studio e un po' di di applicazione. Con il corso avrai tutte le informazioni che ti servono e dopo sarà compito tuo essere felice. E ora entriamo nel corso.